Voglio scintile, voglio calore. Sono tantissimi i ragazzi che sono venuti oggi all'Iper per salutare Emma Marrone e comprare il suo nuovo cd. Sarò libera. È la prima volta che vieni a Varese? Sì, a Varese è la prima volta. Da quello che ho potuto vedere fino ad adesso è molto accogliente, pulito, carino. Vediamo appunto come sarà dopo incontrare la gente. Ma ti aspettavi così tanta gente qua sotto oggi pomeriggio? Il disco sta andando bene anche qui? Io mi reputo una persona molto fortunata perché davvero c'è un sacco di gente che mi segue. So, voglio dire, anche tramite i siti, i vari forum, da gente che c'è oggi, quindi mi fa molto piacere. Non bisogna mai dare niente per scontato, anzi bisogna sempre ringraziare le persone che si spostano e comprano i dischi per incontrarci e per farci stare altri in classifica. E poi, baciarti ogni notte, capito come lezzi a fare, e ci stare nei giovani sempre, quando nasce il sole, dimostrarti che per niente è un mondo stiletto. Non hai già comprato il cd? L'ho comprato a Milano l'altra volta. L'hai portato apposta per farglielo firmare? No, l'avevo già firmato. Allora oggi cosa? Sei venuta qua solo per salutare? Sì, sì. Come mai siete qua oggi? Ti piace così tanto? È fantastica! Da che ora sei arrivata? Da l'una? Da l'una alle 5! Complimenti! Grazie! Come ti chiami? Vabbiamo! Due mani, dai! Grazie!